Fumare fa malissimo, ormai lo sappiamo, ma smettere di fumare è possibile. Se sei realmente motivato a dire basta alla dipendenza dal fumo di sigaretta, puoi rivolgerti al centro antifumo del Policlinico di Milano. Con impegnative del tuo medico curante, troverai percorsi personalizzati di disasuefazione che prevedono visita medica con misurazione del monossido espirato, visita psicologica per valutare il grado di dipendenza, il livello di motivazione, la storia del rapporto col fumo, la situazione psicologica attuale. Sulla base di tutte le informazioni raccolte verrà definito un piano terapeutico personalizzato che prevede un ciclo di colloqui di supporto motivazionale, di accompagnamento proprio a questo importante percorso di cambiamento e l'eventuale utilizzo di idonee terapie farmacologiche. Ti aspettiamo!